Che si dice ad un ragazzo per fargli capire che non ti interessa? Mi piaci come amico, non parlo la tua lingua... Ho afferrato l'idea. Sono sposata con il mare, non ti voglio uccidere, ma lo farò. Tesoro, io direi a questo ragazzo che non sei ancora pronta. Grazie, mamma. E se questo non funziona, sei semplici parole. Non sono gay, ma posso imparare. Grazie a tutti.